Musica E' stata una mattinata molto interessante e qui abbiamo cercato nel ricco programma di Sciabaca di aprire una finestra sull'innovazione, cioè sulla Calabria che può cambiare. Grazie al contributo di ospiti illustri, tra cui una grande mente calabrese che è una matematica che tutto il mondo ci invidia, abbiamo capito che attraverso l'identità e la comprensione di quello che siamo stati possiamo diventare qualcosa di migliore nel futuro. Sciabaca, come ho già ribadito, è una grande festa dell'intelligenza ed è una grande dimostrazione che il territorio quando ha una visione delle cose e con la grande capacità di collaborazione di tutti può creare nuovi e ottimi risultati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.